La settimana africana prosegue con un appuntamento mercoledì, è una giornata che abbiamo dedicato alla figura di Kapuscinski, quindi l'appuntamento sarà alle 17 alla sala da te Lucilin Belverde con un reading di letture e poi alle 18.30 al Cinema Politeama ci sarà la proiezione appunto del film, a lui dedicato ed è uscito proprio quest'anno ancora un giorno. Contemporaneamente la Mediateca Montanari, appuntamento per i bambini, dai sei anni in su, i bambini potranno realizzare con materiale di reciclo, strumenti e giochi africani. Proseguiremo poi venerdì con altri appuntamenti alle 18 alla Mediateca Montanari e alle 21 al Gonfalone e venerdì sera ci sarà l'anteprima della Notte Nera, il Giardino di Piazza Miani, il concerto con Devon Miles che abbiamo chiamato appunto dopo che ha seguito il Jova Beach Party e poi l'appuntamento proprio finale, sabato 5 ottobre quando è il 16.30 consegneremo il premio l'Africa nel cuore a Pietro Bartolo e proseguiremo poi nei giardini di Piazza Miani con concerti, mercatini, street food e tanta festa. Perché avete scelto Pietro Bartolo come disegnato del premio l'Africa nel cuore? Allora siamo onorati di appunto consegnare a lui questo premio, è un premio che noi diamo quest'anno per il quindicesimo anno, viene dato a persone che hanno rappresentato una certa sensibilità e che hanno dato voce all'Africa. Bartolo non è stato solo un medico che ha accolto gli immigrati da un punto di vista sanitario ma è stata una persona che li ha accolti innanzitutto come esseri umani e seconda cosa ha voluto appunto attraverso i libri che ha pubblicato raccontare le storie e spesso parliamo di numeri ma in realtà dietro questi numeri ci sono delle persone le persone hanno dei nomi e delle storie. Spesso proprio andare oltre al numero e conoscere la storia ci dà la possibilità di ricordarci che siamo tutti esseri umani e che fondamentalmente non ci sono numeri non ci sono invasioni ma ci sono persone ognuno con la propria storia.